Temporario Esattamente Il tempo sufficiente per illustrare Come concludere un cartone Sulla scena finale un'inquadratura Dei due che si rincorrono Qui si avve un grido carico di cominci fare E quindi Effetto tendiva a chiudere Tutti sanno che gli unici di cui bisogna aver paura Un'enorme bolla di sapone Ci sono E' chiaro Sono stati i maialini Deci davvero? Non ricordi? Il camionista ci ha detto che doveva fare una consegna a casa loro Ehi! Chi ha finito di costruire la mia fattoria? Daisy, sei stato tu? No Chi ha finito di costruire il mio castello? Sei stata tu, Bo? Eccellente! Hanno risolto il puzzle delle forme E un ibis Eccellente! Hanno risolto il puzzle delle forme E una tartaruga Guardate Ma è la ladra di Può Eccellente! Hanno risolto il puzzle delle forme Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Cattila cangura Cattila cangura Finalmente ti ho trovata Ho un pacco per te Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Cameron il coccodrillo Finalmente ti ho trovato! Un pacco per te! Entrare nella camera delle porte! Bravo! Avevi capito tutto! San... Una chiave volante! Sapete? Wow! Ehi! Questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Oltre ai serpenti e ai coccodrilli ci sono i piranha! Dobbiamo fare qualcosa! Lolita ha bisogno del nostro aiuto! Presto sbrighiamoci! Un momento! Devo approfittarne! Penso che questi possano bastare! Partiamo! Mi ha giustino aggiustato! Barbapapà! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Trasformiamoci tutti in conigli saltellanti! Siete ancora nella vostra bozzana? Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Anche questa volta l'avventura è finita bene per i Barbapapà e per i rinoceronti! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Accidenti! Hai dato il meglio di te stessa! Cerco di accontentare il pubblico! Che a volte chiede la luna! E noi gliela diamo! E ora? Un pezzo leggendario! Sì, spaziale! Sei la nostra stella! Lo apri e comincia l'avventura! Come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Trasformiamoci tutti in conigli saltellanti! Siete ancora nella vostra bozzana? Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Anche questa volta l'avventura è finita bene per i barbapapà e per i rinoceronti! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Lo apri e comincia l'avventura! Sai che questa sera lo spettacolo sarà grandioso? Spero che tu ne sia felice perché Voglio fare delle cose divertenti! Sei contenta? Sì, in verità sono molto contenta Sguazzo nella felicità! Oh, incredibile! Forse c'è qualcosa dietro la parola gentilezza!